Benvenuti, benvenuti, è già domani. Daremo soprattutto uno sguardo fra un po' ai titoli, alle prime pagine dei quotidiani. Il mattino di Puglia e Basilicata, anche l'Europa dice no al Natale, il governo conferma il coprifuoco dalle 22 anche per Capodanno. Oggi incontro con le regioni sul nuovo DPC e mi è volto a contrastare gli assembramenti.